Uomini che hanno veramente dato la loro vita per Dio e quindi vi ricordiamo, anche se ovviamente inutilmente queste altre testimonianze di martirio li troverete sui rotocalchi della Watchtower, sulla carta patinata sempre meno e sempre più viaggiante su Broadcasting o Broadcasting si sono avvicinati ormai a tutte le realtà religiose, business religions americane, ormai è tutto così. Gli evangelici, i formuli che facevano i Broadcasting da molto tempo, rimaniamo indietro. Allora ricordiamo il vescovo Cipriano di Cartagena, dice Cipriano giovane sappiamo che è nato pagano a Cartagena intorno al 210, fu battezzato verso il 245, nel 249 è vescovo di Cartagena. Nel 250 l'imperatore Decio ordina che tutti i sudditi onorino la divinità pagana, offrendo sacrifici o anche solo bruciando un po' di incenso, faccio un appunto, qui parla di patriottismo, cioè che c'è zecca il fatto di onorare, sì c'entra, perché per la mentalità religiosa romana bisognava tenerseli buoni questa divinità, questi dei, bruciando loro incenso. Se tu cristiano, tu credi in Gesù Cristo, figlio di Dio, puoi credere quello che vuoi. Basta che mi bruci però anche l'incenso ai miei dei, se permetti, perché altrimenti si incavolano e poi sono guai. Questi invece bisogna tenerseli tutti buoni, questo era come ragionava un imparatore romano, ed era questo il motivo della persecuzione dei cristiani che si rifiutavano di riconoscere, bruciando in censo, altri dei all'infuori di Dio, di Gesù. Nel 250 quindi abbiamo una delle importanti persecuzioni e quindi chi rifiuta carcere e tortura, o anche la morte, nel migliore dei casi, perché bisogna dire così purtroppo. A Roma muore martire Papa Fabiano. A Cartagine Cipriano si nasconde, aiutando i fedeli come può dalla clandestinità. C'è stata la persecuzione nella primavera del 251, molti cristiani che hanno ceduto per paura i cosiddetti lapsi, li abbiamo nominati precedentemente, i lapsi, vorrebbero tornare nella Chiesa. È un problema che la Chiesa Primitiva ha dovuto affrontare. Che cosa farne di chi non ha saputo, chi ha ceduto alla paura e non ha saputo resistere alle torture, alla paura stessa delle torture, è una tecnica anche quella raffinata, quella di far sentire, no, prima il rumore dei ferri, delle cose, già uno insomma, e non tutti avevano la stessa fortezza d'animo e le dicendo. E quindi quelli che non hanno ceduto si dividono tra indulgenti e rigoristi. Noi abbiamo resistito durante la persecuzione, tu adesso te ne vieni, bello bello, che vuoi, adesso sto semplificando molto, no, che vuoi tornare. Cipiano, Cipiano adotta la versione più indulgente e più vicino ai primi e con altri vescovi d'Africa indica la via più moderata, ma si inimica i fautori dell'epurazione severa, e no, questi hanno ceduto una volta e quindi non sono degni di essere chiamati cristiani. Queste notizie le trovate, ad esempio, qui, negli esseri patristici, Ponzio, vita di Cipriano. L'ho trovato per i tipi della città nuova. Leggete, la storia della chiesa è molto interessante, oltretutto è una lettura molto piacevole. Tornando al nostro Cipriano, che non è rigorista, ma è più vicino ai vescovi indulgenti, le sue vicende si interessano con quelle di Cornelio, presbitero romano d'origine nobile. Eletto Papa, a quattordici mesi dal martirio di Fabiano, che è stato martirizzato, abbiamo detto, si trova di fronte a uno scisma, provocato dal dotto e dinamico prete Novaziano, che ha retto la chiesa romana in tempo di sede vacante. Novaziano che cosa fa? Accusa di debolezza Cornelio, che sulla linea di Cipriano, e dà vita a una comunità dissidente, che durerà, pensate, fino al quinto secolo. È una delle prime grandi divisioni che si sono realizzate all'interno della grande chiesa, quando ancora non ci esisteva la chiesa ortodossa, c'era l'unica chiesa cattolica universale. Da Cartagine, Cipriano affianca Cornelio e si batte contro Novaziano, affermando l'unità della chiesa universale. Non è solo sintonia personale con Papa Cornelio, Cipriano parte dall'unità dei cristiani, innanzitutto con i rispettivi vescovi, e poi dei vescovi con Roma, quale sede principalis, fondata su Pietro, capo degli apostoli. No, non è vero, questa è una storia della chiesa latina. Allora, tu, testimoni di Geova, che io me lo ricordo quando ero ragazzino, che andava come il pane, un trattato di Tertulliano sul battesimo, che lui si pronunciava, non era favorevole al battesimo dei bambini, di cui poi parleremo comunque dal punto di vista anche patristico, perché insomma è interessante, e perché ti fidi anche di Tertulliano a spot, a puntate. Dalla, come dico sempre io, fino alla riga 5, questo pane della chiesa è affidabile, dalla riga 6, dalla stessa pagina è apostata. Perché dico Tertulliano? Perché Tertulliano ci ricorda proprio nel trattato sui battesimi che Pietro battezzava nel Tevere. Quindi, che cosa sta, cioè, è una tradizione che lui riporta e non si può così bellamente trascurare. Non è solo sintonia personale con Papa Cornelio, ci pare, dice questo l'abbiamo già letto, ucciso in guerra l'imperatore Decio, il suo successore Treboniano Gallo è spinto a perseguitare i cristiani perché c'è la peste e la voce del popolo ne accusa i cristiani, tanto per cambiare, additati come untori in qualunque calamità. Si arresta anche Papa Cornelio, che muore in esilio nel 253 a Centocelle, sarebbe l'antico nome di Civitavecchia. E viene definito martire da Cipriano che appoggia il suo successore Lucio I contro lo scisma di Navaziano. Lucio muore però dopo un anno nel 254. Li succede Stefano I e durante il suo pontificato c'è uno strappo con Cartagine per il battesimo amministrato da eretici e scismatici che è valido per Stefano ma è nullo per Cipriano. Cipriano accusa Stefano Papa di considerare ingiustamente il primato di Pietro come un diritto all'ingerenza continua nella vita delle singole chiese. Perché anche su quel modo in come è stato amministrato però questo primato nella carità, diceva la famosa lettera di Clemente, non una chiesa che presiede tutte nella carità. Presiedere nella carità significa avere ingerenza in ogni pelo di ogni chiesa che è collegata con Roma? Evidentemente Cipriano diceva no. Questo dissidio si estende ma nell'agosto 257 Papa Stefano muore. Intanto l'imperatore Valeriano ordina un'altra persecuzione. Cipriano viene mandato in esilio ma attenti bene dove apprende che il nuovo Papa Sisto II è morto martire a Roma col diacono Lorenzo, famoso San Lorenzo, il 10 agosto, si ricorda. Liberato può far ritorno a Cartagine ma nel settembre 258 lo arrestano di nuovo e il giorno 14 muore decapitato. Di fatto lui ritorna a Cartagine per dare testimonianza proprio della sua appartenenza a Cristo. Come stavo dicendo prima, ecco, ricordiamo questo passo proprio che adesso vi citerò in descrizione, perché come al solito la Torre di Guardia ha tutto l'interesse ad allontanare in qualsiasi modo che Pietro possa essere giunto a Roma e tira fuori, come saprete su Ragioniamo facendo le scritture dell'Accademia del Talmud a Babilonia, ma vedremo anche quello che non è assolutamente convincente questa prova che tira fuori, perché chiaramente dire che Pietro è andato a Roma e sa troppo di cattolico e questo deve essere allontanato sempre dalla mente dei fedeli. Grazie sempre dell'ascolto.